ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco shampoo riflessi a cosa serve shampoo riflessi a un parafarmaco appartenente alla categoria degli shampoo è commercializzato in italia dall'azienda lavorato irs moris messa copyright qua copyright italia srl informazioni commerciali titolare laborato irs moris messa copyright qua copyright italia srl concessionario laborato irs moris messa copyright qua copyright italia srl categoria di appartenenza shampoo confezioni shampoo riflessi shampoo riflessi cast barrabio 200 ml modalità d'uso versare lo shampoo sui capelli bagnati emulsionare con acqua e massaggiare delicatamente il cuoio capelluto risciacquare abbondantemente descrizione e caratteristiche lavare i capelli delicatamente questo shampoo ha ideale per ravvivare i capelli con riflessi lucidi e fornire lucentezza e vitalità avvertenze in caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente con acqua componenti e ingredienti acqua water lavandola angustifolia lavander water ammonium lauri sulfate cocamidopropyl betaine sodium chloride a eurobenzyl alcohol maltodextrin rubia tinctorum rot extract parfum fragrance citric acid sodium benzoate benzoic acid potassium sorbate lattic acid e che si il cinnamal ingredienti nati da agricoltura biologica il 99 per cento del totale degli ingredienti sono di origine naturale il 10 per cento del totale degli ingredienti sono nati da agricoltura biologica fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato